Vi sono famiglie di medium, evolvenza a cura di VB. Spesso la medianità è ereditaria, ma si può dire altrettanto di numerose altre doti come quelle musicali, organizzative, tecniche, ecc. Vi sono famiglie di medium come vi sono famiglie di musicisti, di industriali, di giuristi. L'ereditarietà dipende dall'affinità di codici che lega i figli ai genitori. Di solito il medium si rivela tale sin dall'infanzia e talora la medianità sembra manifestarsi in seguito ad un trauma fisico, come in Eosapia Paladino che cade da bambina e si fratturò il cranio psichico, come nella Paipere e nello Soieschi, che forse divennero canali in seguito ad eventi traumatici. Neppure questi fatti tuttavia sono caratteristici della medianità. Il filosofo Gian Battista Vico, ad esempio, sviluppò forti capacità speculative in seguito alla caduta da una scala. Grazie a tutti.